Un saluto a tutti dalla voce di Bruno Pizzu. La richiesta andiamo a leggere. Girone di promozione A della Molise dopo la 24esima giornata. Vede al primo posto Polisportiva Fortore con 63 punti al secondo con 53 Atletico San Pietro in Valle. Con 48 punti troviamo Termoli 2016 con 47 punti troviamo Ripa Mollisani 1963 Spinate con 44 punti Assemina Fraterna con 38 punti Rocca Ravindola 1973 Bois Vairano con 35 punti Polisportiva M Juvenes con 31 punti. Cliternina con 25 punti Baranello con 23 punti Trivento e Donchei Sagnone con 12 punti Calcio Montenero con 11 punti Polispetaccinato e con 4 punti Attila Samnium. Un saluto a tutti i tifosi d'Italia è tutto molto bello.